La materia in arte sa essere eterea, diventa fluida oppure eterna, se nel gesto leggero di una pennellata che imprime sulla tela l'intensità della ispirazione, si fissa l'istante irripetibile delle sensazioni più intime di un artista. L'oro della terra, titolo della mostra dedicata all'opera di Enrico Magnani e curata da Massimo Mussini presso i chiostri di San Domenico a Reggio Emilia, è materia preziosa delle emozioni che si sono liberate nel desiderio tumultuoso ed affascinante del dipingere che l'artista ha vissuto sotto il peso del gesto ispirato. Ma poi, come ogni miracolo su tela, regala a quanti assaporano questi inimmaginabili momenti i racconti di emozioni astratte, indefinite, poi racchiuse nelle pitture, nelle pittosculture, nelle sculture, nelle installazioni su cui colori a olio, acrilici, smalti, spray e fusioni con sabbia, sassi, argilla, oro, catrame e plastica, sembrano introdurre nell'antro emotivo di un vero alchinista dell'arte, un potente mago della materia capace di sedurre ogni singola molecola e lasciarla libera col calore delle emozioni. È la transizione che si realizza dalla ispirazione al racconto della sensazione che genera arte. Io dico sempre la terra siamo noi e l'oro è il nostro tesoro interiore. È qualcosa che dobbiamo cercare di scoprire, di trovare, di scavare in profondità. In realtà la scoperta dell'oro è qualcosa che nasce da una lunga ricerca. Una volta trovato il tesoro portiamolo in superficie e condividiamolo con il prossimo. Questo è qualcosa che come esseri umani dovremmo impegnarci a fare. Sembrano naturali le forme, i colori, i significati, espansi e finali, quasi come la materia fosse questa, solo questa. Un miracoloso frutto di potenza e stile, destinato a celebrare razionalità e irrazionalità con i medesimi strumenti narrativi. Questa mostra sicuramente raccoglie, direi, tutto il mio passato nella pittura astratta. Tutto il mio percorso in questa mostra che raccoglie più di cento opere è molto visibile e per me è stato anche un grande piacere, un grande onore poter esporre tutto il mio passato, il mio percorso in un unico luogo. E quindi si può, per lo spettatore, dico, colui che visiterà la mostra, rendersi conto anche dell'evoluzione, non solo artistica ma personale, perché queste due cose vanno di pari passo. Come l'essere umano evolve, si migliora, si modifica al tempo stesso, se questo essere è anche artista, può riflettere quello che succede al suo interno nelle sue opere. L'allestimento della mostra progettato dall'architetto Lenzini non dà tregua né sconti al visitatore, lo cala con immediatezza e facilità nei cicli pittorici dell'artista. Tutte le opere che voi vedete nascono da antiche tradizioni spirituali e tutte le tradizioni spirituali del mondo intero, alla fine, hanno come obiettivo, un unico obiettivo detto in maniere differenti, ma è quello dell'evoluzione dell'essere umano, cioè impegniamoci ogni giorno, lavoriamo su noi stessi per migliorarci, per passare dalla terra alle stelle. La mostra sarà per l'intera durata del ciclo espositivo anche occasione di incontro sul tema alla ricerca dell'oro interiore, in cui si realizzeranno performance sceniche anche con il pubblico, per rendere ancor più magica l'atmosfera dei chiostri e consentire che per sogni e desideri possa finalmente parlare solo l'arte. Grazie a tutti!